A tezzo bris Momento speciale Hollywood Secondo voi Cosa succede se unisci un sensitivo con un mago nella città delle stelle? Secondo voi cosa succede? Il momento speciale si viene a creare un'unione di grande energia che danno vita al suono di Hollywood. Signori e signore, mister Mauro Tannino! Tannino! Ringraziandolo per aver portato il nome di Hollywood sabato scordo nell'isola della Sardegna. E ora metamorfosi del South. E quando ascolti questo suono le mani cominciano ad andare a destra e a sinistra. L'unione fa la forza, uniti per celebrare l'unica città delle stelle, speciale Hollywood! So pure, so much, so good, this is Hollywood! L'unione fa la forza, uniti per veralah. Speciale! Tu stau So bier So ma So ma So ma Olivo Olivo Marco Marco L'unione Fa la forza Non ce la voglio ripetere più Sambi vicino Mauro, 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 Mauro Sambi vicino 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 E volevo salutare di cuore i ragazzi di Livorno, amici dell'imperiale che salutano Roma. Livorno, Livorno con noi a Oliwood. E vi volevo portare anche il saluto dell'unico tempio della musica. Grazie per la visione! La, 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 la... Mauro, 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 mauro... Attenzione prego perché da questo momento dice lui... Riparti insieme a noi! Riparti insieme a noi! Già fatto ripari! This is the fly! The fly, the fly! The fly, the fly! Dream, dream, sure! Alivun! 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 Grazie a tutti Momento di transizione che ci permette di farci riflettere sulla sua musica, ma noi non abbiamo bisogno di riflettere!